Il poema Urlo di Allen Gisberg a cura di Fernanda Pevano Il poema Urlo di Allen Gisberg è un viaggio dentro se stesso è dentro la coscienza dei propri amici è dentro la coscienza di tutti di tutti noi esseri umani in quanto tali Gisberg guarda nel profondo di questo essere umano che egli è e lo scrive nello stesso stato in cui lo trova per leggere Urlo si fa un po' di fatica fatica fisica perché ti lascia senza respiro ma è una bella fatica la traduzione che io scelgo è quella di Fernanda Pevano contenuta nell'antologia di poesie di Gisberg giubox all'idrogeno per capire e apprezzare Urlo dobbiamo dimenticarci di quanti jeans Levis ha fatto vendere la cosiddetta B-generation media, industriali, commercianti hanno trasformato fin dal suo inizio la B-generation in marchi per vendere jeans appunto camicie, macchine, pulmini, cappelli, sciarpe, giornali film e dischi e anche un sacco di droga anche libri di chi ne faceva parte e quelli scritti su chi ne faceva parte questo marchio fortunato ha fatto vendere i libri di Gisberg e Kerouac anche se purtroppo non tutti li hanno letti come opere letterarie la maggior parte ha voluto vedere questi scrittori in maniera mia o peristretta come rappresentanti di una generazione come simboli di un malessere socialo peggio ancora come una manica di degenerati drogati e beoni ma invece solo se li leggiamo come autori di opere letterarie sapremo in grado saremo in grado di apprezzarli oppure respingerli Urlo è la poesia in cui per sua stessa ammissione Gisberg utilizza la tecnica di scrittura inventata da Kerouac Egli Gisberg in un suo saggio intitolato Facile come respirare dice Hall è decisamente influenzato dal metodo della scrittura spontanea di Jack dopo aver scritto delle poesie molto formali decisi di lasciare andare tutto quello che avevo dentro e di dire tutto quello che mi passava per la testa in senso tecnico Urlo si regge sull'uso anaforico di alcune parole come che e come Moloch in versi lunghi alla maniera di Whitman che risultano in tal modo legati tra loro Urlo nasce quindi come una lunga improvvisazione di scrittura in cui Gisberg come ha imparato a fare da Kerouac insegue e ripercorre i propri pensieri con il loro naturale ritmo Gisberg e questo è davvero importante era infatti convinto che questo fosse possibile che cioè la poesia fosse la lingua con cui la mente esprime se stessa personalmente ne sono veramente convinta Urlo è poesia epica e intimistica nello stesso tempo universale e autobiografica legata a fatti vissuti tra una rete di amici scrittori come Kerouac Barrow Scassadi ogni strofa è un episodio della loro vita quotidiana viaggi interminabili discorsi camminate per le strade che duravano tutta la notte bevute sesso droga ma il linguaggio è poetico protagonista di una parte di Urlo è Neil Cass del grande amore giovanile di Gisberg facciamo un esempio di alcune strofe che andavano a puttane in Colorado in miriadi di macchine notturne rubate Neil Cass di eroe segreto di queste poesie mandrello e adone di Denver gioia alla memoria delle sue innumerevoli scopate di ragazze in terreni abbandonati e i retrocortili di ristoranti per camionisti che andavano a Denver che morivano a Denver che ritornavano a Denver e aspettavano in vano che begliavano a Denver Urlo è diviso in quattro parti la prima parla della disperazione della vita e anche della gioia furibonda del vivere è totalmente autobiografico c'è lui Allen i suoi amici le strade i parchi e c'è nel Cassi di grande amore non contraccambiato della sua vita la seconda parte è dedicata a quello che Gilbert chiama Moloch ed è scritta sotto l'effetto del peyote mi ubriacavo tutta la notte e gridavo Moloch Moloch che mi è entrato presto nell'anima Moloch in cui sono una coscienza senza corpo Moloch che mi ha fatto uscire spaventato dalla mia estasi naturale Moloch che io abbandonai la terza parte di Urla è dedicata a Carl Salomon che Gisberg incontrò il manicomio tratta della pazia che è uno degli incubi della vita di Gisberg segnato dalla schizofrenia della madre a cui dedicò il poema a Kaddish la quarta parte l'ultima è una specie di litania di preghiera e dice ricordai il ritmo archetipo di Santo 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 mentre piangevo in autobus a carne stretta e lo scrissi quasi tutto in un tacuino lì sul posto Santo Peter Santo Allen Santo Salomon Santo Lucian Santo Kerouac Santo Unc Santo Baroc Santo Cassidi Santi gli sconosciuti mendicanti sodomiti e sofferenti Santi gli orrendi angeli umani